Buongiorno a tutti, sono Corrado Lupo, presidente del gruppo Nuove Vacanze, un gruppo che opera nel mondo turistico da 20 anni e da diverso tempo siamo stati alla ricerca di un CRM, un workflow management, che potesse ottimizzare i processi all'interno della nostra azienda e dare al sottoscritto la possibilità di controllare le attività dei propri collaboratori. Questo l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato grazie a Tueppi che da diversi mesi stiamo utilizzando all'interno della nostra azienda e con grandissima soddisfazione riesco a gestire in un unico database tutto quello che sono gli incarichi da poter dare ai miei collaboratori e sicuramente da questo ne deriva una risposta più immediata, più razionalizzata appunto dei processi ai nostri potenziali affiliati, affiliati o consulenti. Quindi devo ringraziare davvero l'azienda Tueppi perché ha ottimizzato tutto quello che sono appunto i processi all'interno della nostra azienda, ci sta facendo perdere veramente molto poco tempo per attività di assistenza, l'assistenza, il database ci dà l'opportunità di razionalizzare anche le pratiche, di inserirle all'interno dei processi, quindi anche tutto quello che era la raccolta dei dati, degli allegati all'interno di un server dedicato o un database in locale è stata spostata all'interno di Tueppi, quindi davvero un sistema che consiglio e sicuramente lo consiglio a tutti i settori, in particolare sarà una sfida anche lanciarlo nel mondo del turismo. Grazie Tueppi!